riceviamo regolarmente segnalazioni di comportamenti d'annuncio online a retufat che prendono di mira i nostri utenti questi includono siti a conami mamma si scassa tu cazzo ma battono a fanculo va wella prossimamente ranking challenge mettiti alla provera che già in un evento pvp che cazzo in cui completerà e per tenere punti diverse partite la sfide sfide in questo non potrei sempre competere contro utenti vabbè fotte sega ma fanculo non ho capito un cazzo andiamo avanti ma c'è della prossima settimana e vabbè non ho capito un cazzo vuoi la sao paolo universale giambi ma battono a fanculo e la ti ringraziamo per sostegno diversi nuovi oggetti sono stati aggiunti 21 ammazza seguenti oggetti sono disponibili di 5 1 e chi cazzo metterà vabbè forte sega abbiamo finito finito l'aggiornamento entriamo nel mondo my club ragazzi allora iscrivetevi al gruppo per fan club italia saluto vane al bianco vane non ti preoccupare il rotto man è sempre a tuo favore è sempre contesti difenderà sempre o de brun ritorna elettorà forte se nema al final o alice che intiago chimic culibali ecco per cosa facendo a crescere salute napoletani ieri per la partita un abbraccio da un mio ventino così di poche parole fa niente raga non fa niente un po a voi un po a noi dai andiamo avanti allora e camabiga d'osta camabiga la 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 letra b mortacci 2 allora iscrivetevi anche al tempo 30 monete poi oggi al canale di demis boscherini detto dede critto che stasera dovrebbe fare una live ricordati come ti ho creato così ti distruggo poi si vedeva luigi guazzigol che farà una live verso le 5 e mezza gabel baberini che ha letto con la febbre al fi cento doci saluto tommi 80 grazie del video che hai fatto ti ringrazio con le mie magliette vedo che stanno un po spopolando tra te gabriele mi fa piacere ragazzi quelle magliette me lo dicessi che le devo girare in png via messenger saluto alfi alfonso robustelli che sembra gabriele compongono la 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 lea di me di press new ira e saluto gli amici di passione pes chris martin e giovanni pes web italia entrambi admin di il pass di del passione pes di gruppo facebook ho detto questo saluto simone russo saluto stefano caparelli andiamo avanti 18.000 gp con grato si è stato in quinta divisione quindi nel frattempo che vedere che cosa da noge può solo una post in arrivo non ti sforzare con ami ma proprio non ti sforzare allora come promesso ragazzi saluto andrea otto tiger 9616 ma 9616 c'è cazzini come quasi gol abbiamo detto mister z chris 20 chris 26 slash martin ragazzi uno mi ha scritto prima di bestemmiare impara a giocare adesso la gente davanti a voi andiamo subito a commentare domanda due punti chi ha bestemmiato punto 1 punto 2 punto 1 punto 2 fotte sega imparare imparare a giocare ho ben altre cose nella vita da imparare voglio ma battere a fangolo va beh questo si chiama mica si chiama davide russo gentilmente vieni me a rispondere adesso quindi poi saluto poi poi l'ha scritto in un video chiedo scusa andiamo a vedere in un video dove era praticamente proviamo la nuova divisa personale e la e football club vabbè quindi vediamo pian pian sto leggendo i primi ragazzi saluto domenico berardinelli alessandro cioffi che è un invelenato gigetto il matto gianni bazzetta no già il bazzarino ha fatto un video william di stefano le linee 88 per spray ragazzi e sarebbe gabriel barberini benedetto zeta juani lucca rizzi boris mantovani ciao boris un abbraccio giacomo abbiev ergo set danilo cardoni george george minchia quanti cazzo siete detto questo posti in arrivo bestemmiare se avrò fatto una bestemme nei non so in quanti miliardi di video ne è stata solo una dove uno me l'ha segnalato c privatamente gli ho chiesto pure scusa mi era anche sfuggita io bestemmi vabbè trovatemi una bestemmia raga trovate ma bestemmia ma vai affanculo vai dire battere affanculo è una gas tema testa di cazzo è una gas tema cio la morta è una gas tema anzi cio la moto nella gas tema non è anche il pene il pene che hai davanti che è morto e floscio te capì ma va affanculo va così era questa cosa allora ragazzi la rock challenge allora ragazzi non mi trovo avversario per fare le altre challenge io non so che cazzo dirvi questa boh questa boh questa non trovo avversario questa abbiamo fatto eccole qua allora ragazzi qua mi sa che qualunque o l'ha vinciato che l'ha pareggiato che l'ha vinciate ammas potete rimparare a fare italiano e vabbè anche lì fotte seco allora dettagli competizione è raga però qui livello forza squadre matchmaking e senza limitazioni potreste trovare quindi ogni vittoria sono 25 ogni partito sono 25 mila gp ragazzi vediamo però entrando se mettono ecco giocatori con la coppetta e no mi sa vabbè mo con calma vediamo tutte ragazzi ma è assai danno non so perché le notifiche non mi arrivano a tutti come allora prima di tutto andiamo a vedere son figlio di puttana lo danno e anche no ragazzi vabbè raga a me non lo dà fotte sega da fotte sega non fa niente mi stavano mi vanno bene nato di che sto usando allora agenti ragazzi 851 moneti di cui qualcuno l'ho accumulata facendo i mercidi e le accessi giornalieri non sto caricando un cazzo anche se potrei farlo perché sinceramente un bonifico mensile da parte di google youtube sta arrivando non non granché ma abbastanza quindi ma non darò un caso qua ci sono tre giri gratis qua ci sono gli icon qua qua ci sono i francesi qua ci sono i pot allora tutte monete questo gratis andiamo a vedere sono gratis che stanno c'è ma farà raga li giriamo e facciamo fare sim e rimandiamo a fare in culo ragazzi assolutamente non servono a nucaz esci puttana maiala gli giriamo tanto gratis saluto angelo bove marco can che insieme a demis moscherini e il sottoscritto componiamo gli admin del gruppo feste anglieb italia diego costa questo è il fratello di diego costa 21 anni il nipote chi cazzo ma ciao che mi dai perfetto bam sono todos uguali te che te che te che te che eh come cazzo si chiama ma vaffanculo vai è un cici brasiliano va vai a cacare anche tu nelle sim perfetto abita gestione ancora ultimo giro gratis mettere pelè no è qua in mezzo a questi giri gratis e lo becchi lo becchi no è ok guarda sono tutti uguali ragazzi un altro trequartista gabriel sarò che vai a fare in culo pure tu ciao abita gestione apra adesso famiglietà perfetto che anche queste cacate abbiamo finito allora la pura verità sincerità stratosferica raga di tutte questi io non voglio praticamente nessuno e come ben sapete io pondero le mie pescate quindi non giro niente niente e niente quindi perché tanto quello questo ce l'ho al massimo e questo cielo al massimo insieme ce l'ho ma fotte secca ok ragazzi o non sprecate monete qua fanno cacare andiamo qui qui sono sincero ragazzi sono sincero sincerissimo non me ne frega un cazzo non giro manco regalato raga non giro manco regalato perché non me ne fotte un cazzo neanche qui detto questo è rimasto semplicemente questo ragazzi qui lo giro perché posso fare 8 giri gratis cioè sono monete che non devo caricare chi vorrei ovviamente proviamo a prendere nei male li buttiamo quello che ho io bene già ce l'ho praticamente per chi non sapesse cosa sono questi sono quelli che io non l'ho fatto perché non me ne fotteva un cazzo sono quelli che noi diciamo utenti di fidi pes fifa ma abbiamo votato il miglior giocatore di ogni squadra francese poi ci sarà quella della liga italiana di tutti i campionati per fare gola e fare cassa con anni allora ragazzi io vorrei solamente neymar e camava il resto raga non so chi siano non non lo voglio sapere e non me ne fotte un cazzo è renato sanchez sono sincero eh sono sincero il resto ragazzi cazzo mi dammi da non mando a fare in culo ok 8 giri come venga venga e basta dare cacate non proviamo eh con la tra massima tranquillità ovviamente da in francia vedo la francia quindi non ci illudiamo non capire almeno prima cacata ok questo è uguale a quello di più d'ho pure 20 anni lo so qualcuno di l'anico qualsiasi giocatore nico ma quale bagato quelle buono quale raga forte sega siamo arrivati quasi a febbraio si comincia a a finire e andare sui sui quelli che usiamo alla fine tutti quanti sempre francia ovviamente poi vi possono dare i doppioni ecco laga appena detto l'ho appena detto vero commentate voi raga no no commentate voi commentate voi ragazzi commentate voi l'ho appena detto io voglio che non commenti meglio che non commenti raga veramente meglio che non con non aggiunga altro Konami continua tu con queste minchiate Konami non solo sono 20 posso capire i giocatori risalto posso capire i giocatori pot chi cazzo vuoi mettere metti va bene ma addirittura palla nera questo è uno che ieri ho convertito adesso chi cazzo ma la nera camera e questo vuoi mi direte nico questo è forte bagato giusto ma un po lo blocchiamo questo da vediamo se ci abbiamo l'altro cosa neanche quando cazzo arriva sto cesso poi lettera c ma che cazzo me devo fare ragazzi andiamo avanti cinque giri ma anche no Konami tranquilla allora vediamo così gli diamo una bella occhiata altra palla nera no ma quelle che dico io non me le vedete perché come venga è mancino che cazzo è cosa traurea minchia ragazzi sono più traurea nel calcio che i cinesi nel mondo mamma mia 34 anni sì ma vai a fare in curo vai vai a fare in curo vai vai a fare in curo 34 anni vabbè allora quando curare 92 il camera con la k arriva 93 ma vabbè non che c'è sto cesso arriva 90 ti fa le belle sim e te ne vai a fare in curo dai quattro giri ragazzi ponderate come quando pescare soprattutto scioppare dai ragazzi almeno dei due me lo vuoi dare con anni ma fa mocca ma niente altra palla nera la fonte la fonte la font la font taci tu vuoi di tu nonno 93 lettera di boh vabbè tre giri tre giri all'alba e cristo santo d'ambra vaffanculo niente fa lavoro mica tutto uguali sono perché 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 mai una gioia perché pescata di me le ultime settimane o pescati e la pezzo di merda e niente altra palanile cacata della dell'orto madonna mi raga ma che cazzo di giocatori sono questi io ci ho provato raga ci ho provato ci ho provato ragazzi ho provato ci ho provato raga ma non me lo dà lo sta ci ho provato raga ci ho provato tanto la mia palla argento sta già 90 fotte siga vaffanculo conami va questa del 97 pazienza raga e c'è ma fa che culo che bucio del culo bucio del culo raga nel ligno questo è per te e tra b lo blocchiamo qua c'è ancora 28 anni finito poi man mano che comuniamo se riusciamo giriamo raga la madre no perché non so cosa minchia me devo fare basta allora a sto punto anche se avrà è vediamo media 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 vediamo 16 livelli 95 e vediamo quanto arriva lo zio vediamo lo zio quanto arriva sblocca converti e vediamo lo zio quanto arriva giusto tanto per nei mar su nei mar però facciamo così la pazzia prima totale niente ma proprio così vuole fare una cosa tutti va se tutti ok tutto la data tranne p ragazzi ma quanto se bagascia con amico mali mortacci tu e di tu nonno ma vattene a fanculo va a pezza di merda dosta settemila e quattro ragazzi così da solo cinque livelli a madonna che schifo 43 mila sti cazzi ragazzi sta già 97 sali 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 ai 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 64 ma così lentino l'hanno fatto chiedo scusa quanto arriva né ma 97 e 18 livelli io ce l'ho 14 che rimane così praticamente ma rimane così questo è un esa giusto esa regista creativo minchia 97 già e sala prolifica tacci tua e sala prolifica ma non solo elettra poi vediamo dai allora le cacate le abbiamo fatte tutte le pescate abbiamo fatte tutte ci facciamo prendiamo sta squadra prima vediamo o elettra mbappé me ciao ciao lo zi ciao ovviamente ci porti a mbappé ecco qua beh courtois anche tu beh se te ne vai a fare in culo da ma poi piace rispoveriamo can da pure tu vai a fare in culo che a quanti cazzo di portieri o la font la font la font la font la font ammazza quanti portieri o che cazzo abbiamo solo lui o aliso vieni qua qui poi scherzino sinistro poi la davis welcome sei l'unico con la lettera b o poi che abbiamo come dc pugiolla ma donna mi racca tutte le trecci o no quelli vali che cazzo addio lo sto usando la maia dell'arsena quindi la root man la pace della root man allora tu vai a fare in culo quindi mediano abbiamo mediano che abbiamo solo a ecco qua abbiamo chimic e fabbigno chimiche fabbigno mi mancano ancora nove livelli sta 90 vabbè fabbigno gli mancano che ho sette livelli ok allora andiamo a vedere una cosa prima ragazzi tranquilli voglio fare la prima del giorno quindi lo sapete la heri potter un attimo che controlliamo anche qui la squadretta ok allora questa me ne sono le tre c finalmente pazienza c'è ancora mettiamo portieri abbiamo detto ci portiamo ci portiamo ci portiamo ci portiamo dei ghia qui e lì noi abbiamo il contratto tanto ce l'abbiamo e alison e alison che lo devo trovare perché quando voglio io non vedo più la gamma veramente e anche lui abbiamo finito ok delete e la tutta letta di merda culibali 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 oh oh bello mio ci portiamo anche oh sa anche di risi risi davis 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 giocare in tutte e due le squadre davis da settimana mi sa ok va bene ok ok campbell c'è ok vabbè vabbè andiamo a vedere che c'è di bello se si può fare poi vediamo allora questa è qua raga vince la perde o pareggia e 25 mila gp vediamo le coppette servono non servono un cazzo le coppette giusto ok quindi fotte seca esci al massimo vediamo devo vedere quanto oh madonna mia che palle ah bene quindi vediamo se le facciamo in live queste domenica o sabato dipende o sabato domenica faccio la live ragazzi pomeriggio beh dammi un avversario qua che pazienza ha voglia di giocare dai ti prego dammi un avversario non mi fa fare la prima fuori qui appoo chi procedi danni se ci fosse lo conosco come vedete vengo da 5 vittori di fila perché mi sono portato i young ragazzi che lettera è da young come cristo cazzo mi è venuto stanno tutti a palla qua difensivo chiamo all'examore angolaggio merica contropiede rigorista destra sinistra corta lunga capita mettiamo via un attimo quando vedete una cosa davis allo x triangolo potete confrontare i giocatori velocità ovviamente davis più veloce difensivo è giusto così dai dai maglietta io gioco con la root man ok che dio ce la mandi buona grazie 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 cerchiamo di non fare cazzate spiega di togliere perché domeniche solo Domenica è solo E Berkamp Giù sta la meglio Da capocchia Vabbè Sto pensando Perché non ho controllato Il centro campo Mi sono portato De Jong No Mi fermo Tante gol Ho sbagliato io qua Ho sbagliato io Ragazzi Puttana maiala Oddio Qua ci stanno Dopo 5 litri di fila Che cazzo pretendi No vabbè Avete visto Maradona La paglia è andata indietro Ragazzi Ma dai Ma dai No 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 Qua c'è qualcosa Che non può Dai No raga No troppo imbucato No raga Troppo imbucato Troppo imbucato No no Porca Ma dai Ma dai Ma dai La morte Da a tante Ma dai Ma dai Ma dai Da a tante Ma dai La morte Da mamta Ma dai La morte Da stushega Da merda Niente Oh ma Ma dai Ma dai Da 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 Sta in seconda con il gioco le palle e non fischi falli no vabbè no 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 e c'è riparte pure con vecchi cazzo è ben johnson vabbè raga lo scritto non esiste cheat vabbè as he picks him out Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo forward pass Maradona plays it forward madonna mia che schifo eh e battiii madonna mi non fischio un cazzo di fallo neanche oggi ma che cazzo oh oh argente questo è un argento secondo accanto fidati ragazzi fidati fidatevi Yalamurt Konami arriva lunedì giovedì valeo ti sminchi a tutto abbiamo abbiamo ripresa a vincere e adesso riprendiamo a scendere tanto è così Konami va bene non ci lamentiamo non ci lamentiamo tranquilli dai fai il 3 a 0 che la schifiamo questa che cazzo metti pausa testa di cazzo cazzo metti pausa testa di cazzo guardate non ci sono i miei no vabbè ho sbagliato il modo contro qua Niente raga non va non va non va, l'ha detto topo svinchiata la squadra roba da pazzi tutta sminchiata di nuovo mi hai rotto proprio i coglioni e tu sto cazzo di modo di giocare niente ragazzi non va proprio ragazzi non va proprio non va proprio il mandanguete mamma mia sempre a mettere le mani addosso sempre a fare i falli state mamma mia è malato che la buttava fuori ma cristo santo madonna mia che palle che palle non ne becco mai una di testa mai una di testa ma non fischio io sto facendo lo scemo guarda non fischi ma non fischio 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 no vabbè dai mo lo scemo Oh, ma come cazzo è che ho un ritardo della madonna? Ma guarda, sono fermi! Sono fermi! Niente, ragazzi, fermi. Ma guarda, sono fermi! janelle So, now we're going to get those changes we have been expecting Ma dove cazzo state? Ma dove cazzo stanno i miei? C'ho un ritardo della madonna proprio, ce l'ho rincoglioniti i giocatori, ma guarda un po', ma guarda un po', ragazzi, non ho più parole, ragazzi, non ho più parole, non ho più parole, mamma, ho preso i due gol identici come un coglione e io non riesco a giocare. Guardate, 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 niente, ce li ho fermi proprio, ma dove cazzo, che li passa da, madonna. Guardate, ma perché tutti a lui vanno? Vabbè, da qua abbiamo capito, ragazzi, ma neanche a sparare, segno, guarda quello, madonna mia. Ma come cazzo si fa con un argento o una a perdere, mamma mia. Guarda, lui fa tutto, guarda, lui fa tutto, lui. Salite! Niente. Niente, ragazzi, niente, è andata, dai, peccato. Peccato. Fuo di gioco. Madonna mia, ragazzi, ma come cazzo si fa, ma come cazzo si fa, dai. Vabbè. È andata, ragazzi, è andata. È andata, dai. A uomo, mi ha messo, ragazzi, mi ha messo a uomo, mi ha messo. Mi ha messo a muovo, avete visto il menico, non riesce a fare nulla. Niente. Niente, dai. E' andata, dai. Boh. Sorte da fall. Non fischia un cazzo sto pezzo di merda di gioco, oh. Sto pezzo di merda di gioco, oh. Non fischia niente, oh. Guardate come sta l'uomo, guardate. Fuori gioco. Madonna mia, voglio, madonna mia, madonna mia, raga. Sconfitta e immeritata, la prima volta che lo posso dire. Sconfitta e immeritata. Vocca la morte di questo tramor che si spompa subito. Fesso, eh. Mamma mia, raga. Mamma mia, come si spompano, oh. Come cazzo si spompano questi, Cristo santo. Eh, vabbè, dai. Ok. Perdiamo dopo, dopo non so quante cazzo di partite. Va bene. Va bene, dai. È andato, raga, non fa nulla. Dai. La registro e la rifacciamo. È andato, dai. Niente, vedete? Niente. Niente. Guarda, guarda, guarda. Fermi, dai, raga. Ma che schifo è. Volevo vedere questo trimone quante partite ha. Vuole proprio vedere quante ne ha. Dove a me la deve da portiere. Ah, manciamo sulla bandierina. Dai, è giusto così. Madonna. Madonna, mancami. Chi go qui. Non bella. Che schifo. Che schifo. Segni tu, signore. Io ho tre ore per segnare. E muoviti! Cazzo! Muoviti! Ah, porca puttana. Ma va, trafancu. Vuole vedere quante cazzo di partita sto coglione qua. Mamma mia, quanto fa schifo sto gioco. Madonna mia. Madonna mia, non è possibile. 692, raga. 616. Ma come cazzo è? Già mai che dalla bacchina da mamma. Ma vaffanculo, va. Arrivo subito, raga. La devo rifare questa. Mi girò del culo. Mi girò del culo. So becca, boh. Non è fede l'assa, siamo un coglione. Non è fede l'assa, siamo un coglione.